Ciao ragazzi, allora, Salzburgo Inter fece 0-1, siamo agli ottavi, siamo agli ottavi, due giornate d'anticipo, sono contento, adesso dobbiamo puntare assolutamente al primo posto nel girone, perché io non voglio vedermi come squadre possibili da beccare agli ottavi, Bayern Monaco, Real Madrid, Manchester City, perché ragazzi, a quel punto dopo non bisogna dire, è che sfiga, che sfiga che abbiamo beccato, e no, bisogna arrivare al primo in sto girone, per carità, cioè, la Real Sociedad sta meritando forse addirittura più di noi, anzi, tolgo il forse, sta meritando più di noi il primo posto in questo momento, perché ha fatto un grandissimo girone, e sta facendo un grande girone, però, però ragazzi, ce l'abbiamo la bella a San Siro, l'ultima giornata di Champions, e lì dobbiamo vincere, cioè, parliamoci chiaro, dobbiamo vincere, dobbiamo vincere, e arrivare al primo, e arriviamo, perché negli ultimi anni proprio non siamo mai arrivati primi nel girone, allora, partita di oggi, partita di oggi è la classica partita che facciamo fuori casa, no, solita partita che giochiamo fuori casa, stiamo a guardare gli altri, aspettiamo, però il problema è che non acceleriamo mai, no, perché tu dici, fai il primo tempo così, vabbè, il problema è che il secondo tempo, eh, lo fanno sempre così, eh, però ragazzi, non è che ti può sempre andare bene, eh, perché anche oggi, no, allora, di solito il primo tempo noi facciamo un tiro, un tiro, un tiro in porta, e di solito è sempre un'occasione clamorosa, come con l'Atalanta, no, imbucata di Cialanoglu, e rigore, e la sblocchi, al prima occasione. Oggi, prima occasione, Frattesi, davanti alla porta, te la spara in curva. Quindi, non è che sempre al primo episodio ti va bene, perciò non possiamo sempre confidarci che al primo episodio allora siamo bravi e facciamo gol, perché non è sempre così. Oggi, Frattesi, te la spara in curva, inizia il secondo tempo, e fino all'altra, poi vabbè, anche Turano, eh, sentivo la tua gol di testa, però quello, vabbè, calcio, pare calcio d'angolo, sì, calcio d'angolo, sì, vabbè, sai, non te lo aspetti, magari, ok. Poi ti becca la traversa Lautaro, e sei sempre 0-0, ragazzi miei, resti 0-0. E poi, finalmente, all'ottanta, quattresimo, adesso non mi ricordo, il minuto, c'è il fallo di Mani, e ti becchi in rigore. Però anche lì, è sempre l'episodio. Per carità, dopo, forse, verso il settantacinquesimo in poi abbiamo iniziato un po' a spingere di più, però ragazzi, dobbiamo farlo dal primo minuto, perché, facendolo dal primo minuto, tu passi in vantaggio, e poi sei, siamo una grande squadra, siamo una grande squadra, e te la puoi gestire dopo, non la partita, te la puoi gestire, perché sei in grado di gestirtela. Cioè, partendo subito aggressivi, e dopo riesci a fare gol, e dopo la partita fai quello che vuoi della partita. Invece così, se appuntare sempre nel secondo tempo, il secondo tempo, ragazzi, è inguardabile sempre. Ma non solo di noi, dico in generale, i secondi tempi nel calcio di solito sono veramente inguardabili. Perché, perdite di tempo, l'arbitro che fischia sempre fa gli inesistenti, tiri alla cazzo di cane, cioè, dopo diventa così, no? E i cambi, quindi dopo, è assolutamente una perdita di tempo. Perché non giochi mai, cioè non è che giochi 45 minuti nel secondo tempo, giocherai... Boh, 20 minuti, secondo me 20 minuti, ma forse 20 minuti no, però... Non so, giocherai 30 minuti, eh, 15 minuti li perdi, eh, a parer mio. Cioè, 15 minuti stai fermo, ma forse anche 20 minuti. Quindi, è così, ragazzi, è così. Dunque, ottavi, sono molto contento. Poi alla fine abbiamo avuto... Alla fine abbiamo avuto occasioni, perché, insomma, Frattesi che la spara alta davanti alla porta. C'è stato anche un colpo di testa di Bastoni davanti alla porta, che non l'ha colpita bene. Colpo di testa di Turan. La traversa di Lautaro. Sempre Lautaro che l'aggancia, fa un bellissimo aggancio, e poi la spara fuori. Insomma, alla fine le occasioni ci sono state. Niente, raga. Ci vediamo a Interfrosinone. Sì, penso di Interfrosinone. Ciao a tutti.